Ad una settimana di distanza dall'incoronazione di Kasper Stuka come decimo campione italiano, la stagione in F4 tricolore non è ancora terminata. A Barcellona è infatti arrivato il momento del gran finale dell'Euro 4 Championship, la nuova serie promossa da C-Sport e WSK Promotion. Alla vigilia dell'ultimo round è il Junior Red Bull di Premier Racing Arvid Limblad a presentarsi dal leader di classifica, seguito a soli tre punti dal compagno di squadra Ugo Ugokchuv, pilota americano che porta le insegne del McLaren Junior Team. Rose ha la situazione anche per il pilota di US Racing Akshay Bora, che rientra insieme a James Wharton tra i favoriti della finale. La classifica tuttavia, con il coefficiente 2 attribuito all'ultimo round, rimane virtualmente aperta per tutti i partecipanti con ogni singolo pilota che può aggiudicarsi fino ad un massimo di 150 punti in caso di tripletta. Nelle qualifiche di sabato mattina è fantastica la prestazione di Bora, che firma una doppia pole position in gara 1 e gara 2, mentre a scattare primo nella gara che chiuderà la stagione inaugurale dell'Euro 4 Championship sarà Ugochuv. È un bel modo di iniziare il weekend. È la prima pole di quest'anno in F4 e siamo riusciti ad ottenerne due. Sicuramente è una bella sensazione. Mi concentrerò solo sul processo. Non stiamo pensando al campionato. Dobbiamo affrontare qualifica per qualifica, gara per gara. Quindi, ora, occhi puntati su gara 1. Ci concentreremo su ogni fase del percorso, la partenza, il primo giro, il secondo giro, il terzo giro e vedremo come andrà a finire. Devo ringraziare US Racing, che è una grande squadra. Le prestazioni della vettura sono davvero irreali e nemmeno questo regge il confronto con l'ambiente che abbiamo. Siamo tutti una grande famiglia e sono davvero felice per aver condiviso questo anno con loro. In gara 1 lo spettacolo si infiamma già dallo start. Bora scatta dalla pole ed è subito al centro di un'intensa lotta per il vertice con diversi piloti che entrano affiancati nella prima chicane catalana. Il pilota americano-singaporiano di US Racing interpreta perfettamente la curva, ma Arvid Lindblad e Wharton arrivano troppo vicino con l'australiano che taglia nella via di fuga e si riunisce alla corsa in più uno. Stessa manovra per il finlandese Tukat Tappo Nene che passa invece terzo. Gli equilibri di vertice non cambiano per il resto della gara grazie alla perfetta conduzione di Wharton che taglia così il traguardo per primo. Dopo la gara però, 5 secondi di penalità combinati ai due Ferrari Driver Academy per il taglio cambiano la classifica. A vincere è Akshay Bora che, insieme alla prima pole, porta a casa anche la prima vittoria dell'anno. Secondo è Lindblad che mantiene così la leadership in classifica per un solo punto davanti a Bora. Wharton chiude in terza posizione. Hugok Tchuvu ha concluso quarto nella classifica finale di gara 1, mentre Tapponen è scivolato quinto. Sesta piazza per la fiere tricolore di Van Ame Sport Racing Brando Badoer. Badoer al via dall'ottavo blocco della griglia, ha passato Pradel rimanendo successivamente a lungo in lotta con Fred Slater. Ha poi chiuso il gap con un passo di gara perfetto fino a superare il britannico settimo in gara 1. L'ottava piazza è andata al maltese filippino di U.S. Racing Zachary David. Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra australiano Gianmarco Pradel. È stato quindi il pilota emilatino di Premier Racing Rashid Aldeheri a guadagnare gli ultimi due punti in palio dalla prima delle tre gare del fine settimana. Problemi in gara 1 per il toscano di Premier Racing Nicola Lacorte costretto al pit-in al primo giro per un guaio tecnico. Nella gara femminile Aurelia Nobles della Ferrari Driver Academy di Premier Racing ha terminato gara 1 con la dodicesima posizione assoluta, vincendo sulla rivale Tina Haussmann, la pilota svizzera di AKM Motorsport che ha mantenuto però la leadership di classifica. Non hanno tardato ad arrivare sorprese neppure in gara 2. La prima della domenica. Alvi ha problemi per Diego Della Torre di AKM Motorsport che stalla in griglia prima di unirsi alla corsa. Davanti la P1 è subito nuovamente contestata con Wharton che sfila davanti a Bora, questa volta senza problemi nella prima chicane. Si accende la lotta per la P2 con Lindblad che attacca il diretto rivale di classifica. Un incidente tra i due manda il londinese sul fondo dello schieramento, mentre Bora riesce a mantenere la seconda piazza fino alla fine della gara. Arriva però per lui una penalità di 10 secondi post-gara con il pilota di US Racing che finisce sesto. Poi incidente tra Giacomo Pedrini di Vaname Sport Racing e Gianmarco Pradel di US Racing, che causa il ritiro di entrambi chiamando in causa la safety car. Hugo Gokchuvu ha guadagnato la seconda piazza finale con un sorpasso entusiasmante ai danni di Tuka Tapponen e le finlandese a sua volta ha chiuso la gara terzo portando a casa la vittoria rookie. Cambiano nuovamente gli equilibri di classifica con Wharton adesso primo a 145 punti, seguito da Gokchuvu con solo due lunghezze di margine, con l'americano pronto a capitalizzare sull'ultima pole position dell'anno e portare a casa il titolo. Quarta piazza per Nicola Lacorte, secondo rookie della gara. Il toscano di Prema è emozionato nella battaglia per il podio assoluto, quando ha ridotto sensibilmente il margine approfittando della bagarre dei compagni di squadra davanti, prendendo attivamente parti alla lotta per la P3. Quinta piazza ha Zachary David, terzo pilota a salire sul podio rookie. Il maltese filippino di casa US Racing ha portato a termine alla perfezione una gara complessa, che lo ha visto lottare nella zona calda del gruppo. Vicinissimo alle ostelità anche quando un contatto tra i piloti prema, Rashid Aldaheri e Fred Slater. Settimo il cinese di US Racing Ruiki Liu. Mentre è stato ottavo al traguardo, l'olandese di Vaname Sport Racing, Lin Odenius. Una penalità di 10 secondi per aver eseguito una manovra pericolosa nel formation lap, lo ha visto però uscire dalla zona punti con la P8, che è passata al compagno di squadra italiano Brando Badoer. A chiudere la zona punti sono stati quindi il danese Frederik Lund, di Vaname Sport Racing e Darwin Lindblad. Nella gara femminile ancora vittoria per Aurelia Nobles, P11 assoluta, che è passata sotto la bandiera a scacchi davanti alla diretta rivale, con la chiusura dei conti finale demandata a gara 3. Sono molto contento di riscattarmi di ieri. Sono molto soddisfatto della prestazione di oggi. Ovviamente sarà difficile vincere il campionato, visto che Ugo partirà dalla pole in gara 3. Farò il mio meglio e spero di tornare a casa con il titolo. Al via dell'ultima gara della stagione, Ugo Kjuvu scatta con Brando Badoer che gli si attacca agli scarichi ed inizia con l'americano la lotta per la P1. Alle loro spalle lo stesso fanno Tapanen e Wharton in una lotta intestina per la P3. Nella gara per la terza piazza si aggiungono anche il Lindblad ed il toscano la corte. I due in testa approfittano della lotta per iniziare a creare un gap che diverrà nel corso della gara sempre più corposo, fino a tagliare il traguardo con 12 secondi di margine. Problemi per Giacomo Pedrini di Van Amesports, che finisce fuori parcheggiato in ghiaia. Contestualmente anche la pilota Aurelia Noval si è chiamata al pit-in dopo una foratura. La sosta e-box costa alla Ferrari Driver Academy brasiliana la chance di portare a casa il titolo femminile, con Tina Haussmann che può festeggiare ancora una volta sul gradino più alto del podio il secondo titolo stagionale. Con già diversi secondi di margine dai due alla guida della gara Lindblad quarto inizia l'assalto al finlandese. Taponen però nel corso del weekend ha dimostrato la sua grande abilità nella difesa della linea di gara e mantiene la posizione sull'ultimo podio dell'anno nonostante gli innumerevoli tentativi del pilota Red Bull, che finisce poi undicesimo, dopo aver ricevuto 10 secondi di penalità per un jump start. L'inconveniente costa a Lindblad la vittoria nel titolo rookie, che passa così ad Akshay Bora. Tra i momenti salienti della gara da segnalare anche il cesissimo duello tra la corte e Zachary Davide con diversi scambi di posizione tra i due. A prevalere è infine il maltese filippino di US Racing che chiude quinto davanti al rivale. L'ultima gara dell'anno termina dunque con la trionfale cavalcata di Hugo Gokchivu inseguito fino alla fine da Badoer, che a metà gara tenta anche un sorpasso riuscendo a finalizzarlo. Alla bandiera scacchi, il velocissimo italiano di Vaname Sport Racing è l'unico a reggere il passo in cerca di una prima vittoria stagionale che non è però arrivata. A Hugo Gokchivu sarebbe bastata anche la seconda piazza per la vittoria nella serie a questo punto, ma il junior McLaren non si accontenta e festeggia il titolo sul gradino più alto del podio. È stato molto bene, abbiamo iniziato il campionato molto bene, round 2 era un po' più difficile, però sapevo venendo qui chi sarebbe stato più costante avrebbe vinto il campionato, anche con i doppi punti, quindi sono contentissimo. Prima delle gare non è che era un passo così buono, però sono riuscito a stare costante e ho aspettato per il gara 3 dove sapevo che partiva in pole e sapevo che dovevo fare il mio meglio e vincere la gara. Con questo vorrei ringraziare tutto il team Prema per tutto il lavoro dall'inizio dell'anno, è stato un anno ottimo e finirlo così vincendo la gara, pure il campionato, è una sensazione molto buona. È bello finire la stagione sul podio, anche se non sono felice ovviamente, l'ultima gara dell'anno volevo la vittoria, ho fatto di tutto per provare a prenderla e sì, dal primo all'ultimo giro io e Ugo eravamo molto veloci, siamo andati via dal resto del gruppo e ho provato a mettergli pressione in tutti i modi e a passarlo, però è stato bravo, quindi torno a casa con una seconda posizione che è comunque un buon risultato. L'ultima gara è stata solo di difesa, non avevo più gomme, ho cercato di mantenere la mia posizione e di fare una buona partenza, cosa che ho fatto. Sono molto contento, credo sia un buon modo per concludere la stagione. Penso che la seconda metà dell'anno sia stata piuttosto buona, posso essere davvero felice di come si è conclusa. Euro 4 è una sensazione fantastica, sono davvero felice e orgogliosa del lavoro di squadra che abbiamo svolto in questa stagione.